Anche per l'estate 2024 l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, con deliberazione numero 1309 del 6 giugno scorso, ha approvato il progetto di alisi estiva, nonostante la gravosa e perdurante carenze di personale, soprattutto nefrologico, meno 41%. A comunicarlo è ANED Calabria, associazione nazionale e modializzati. Di ciò siamo grati al direttore Antonio Graziano, ai suoi collaboratori e a tutto il personale sanitario, operando per la sensibilità e disponibilità dimostrata nell'approvare la richiesta di ANED e dei pazienti nefropatici, prevalentemente corregionali e migrati, che solo così hanno la possibilità di tornare in regione per una reintegrazione familiare, costituente la migliore medicina per sentirsi normali. Per le persone nefropatiche in uremia terminale, spiegano dall'ANED, sottoposte alla terapia salvavita della dialisi, non è possibile nessuno spostamento fuori dalla propria residenza, se non dopo aver individuato una struttura sanitaria disponibile ad accoglierle per la terapia. I centri dialisi cosentini sono nove ed equamente distribuiti, San Giovanni in Fiore, Cariati, Trebisacce, Rossano, Lungro, Praia Mare, Cetraro, Paola, Rogliano.